E cambiamo adesso argomento e parliamo di una delle eccellenze culinarie dell'Alto Molise che è la frittata come viene preparata nei paesi della Valle del Volturno nelle parole di Michele Rossi di Montaquila, sentiamolo. La frittata di Montaquila la conosci, mi ha detto che si fa in quasi tutti i comuni della Valle ma la più buona qual è? Tutte le frittate della Valle del Volturno sono buone, noi l'abbiamo solamente messa in rilievo adesso è anche un prodotto d'eco e questa è la frittata di Montaquila. Quelle di ieri, considerando la fame che c'era, forse erano i migliori? Erano i migliori certamente perché allora in primis dobbiamo dire pure un'altra cosa che al posto del prosciutto, che il prosciutto si doveva vendere perché per i soldi era formata come ingrediente, ci si metteva la coratella di agnello adesso non è più possibile questa cosa, sono frattaglie, sono interiore non hanno una tracciabilità alimentare, è tutto. Dunque la frittata viene fatta solo con salciccia, pancetta e prosciutto però io ricordo che a casa mia ancora si fa con la coratella di agnello. Secondo lei il record da quando arriverà a Montaquila? Ma diciamo che questi sono un po' forsennati se lo vogliamo dire così perché non è che aumentano un uovo o due uova ogni anno, aumentano di decine e decine di uova non lo so, comunque io penso che fino a 2000 uova con le attrezzature che hanno attualmente e oltre forse pure, 2000 uova si possono cuocere tranquillamente sempre con un po' di tempo in più rispetto alle 12 ore dell'attuale.